Domani entra in panchina mister Malotti dopo la squalifica. Questa è la prima vera novità della settimana nella quale i sicuri assenti sono Romanelli vittima di un problema muscolare e l'ischi che è stato colpito da forte influenza. Tornano però tra i convocabili ed i convocati sia Buccianti che dunque risolve la questione legata all'impegno delle quote e Frio che ormai pienamente ristabilito dopo il prolungato stop. Quest'ultimo recupero peraltro fa tornare in auge anche l'idea della difesa 3, già sperimentata in situazioni diverse con Frio accanto a Bega e Serigna e Buccianti da una parte e Bicchi sull'opposta Corsi ad agire nel 3-5-2 che all'occorrenza diviene però anche difesa a 5. In avanti spazio dal primo minuto per Regoli al posto di Romanelli c'è anche l'alternativa Cabandà. Non per un posto dal titolare ma l'ex Sestese appare gerarchicamente favorito accanto ad Invernizi. Da comprendere c'è anche quanto il mantempo possa aver influito nella preparazione della gara per il Sansepolcro. Il Buitoni è stato del resto fortemente danneggiato dal recente evento e qualche sessione non è stata infatti eseguita al meglio. Dirige Curti di Milano al quarto anno di Serie D.